Come è nato il progetto Conta su di noi? Ciao Celeste, il progetto Conta su di noi è nato nell'estate del 2018 per un po' volere della parrocchia, dei parroci che hanno chiesto a un gruppo di persone, che è l'attuale equip che sta appunto lavorando per questo progetto, di interpretare un po' le esigenze che sia i parroci che la Caritas di San Bortolo hanno evinto facendo visite domiciliari e conoscendo persone anziane per lo più. Si è evinta una fragilità, una solitudine soprattutto nelle persone dai 65 anni in su. Allora noi abbiamo concertato le idee e abbiamo provato a fare un progetto proprio su queste esigenze della nostra parrocchia. Abbiamo partecipato al bando, l'abbiamo vinto a dicembre 2018 e siamo partiti da gennaio proprio con un'implementazione grandissima e di questo magari ti vorrà parlare Marco che ha subito preso in mano questo progetto con tutto il suo cuore e con tutte le sue energie insieme a me. Di cosa vi occupate concretamente? Allora noi ci occupiamo di una branca di persone che sono gli over 65 in condizioni di fragilità che abbiamo conosciuto in quei sei mesi specialmente nel quartiere di San Bortolo. Sottolineo che questo progetto è finanziato dalla Cariparo al 80% e dalla parrocchia il 20% rimanente. È un progetto che offre agli anziani tutti i tipi di supporti. Partiamo dalle cose più minime che possono essere la spesa, il pagamento delle bollette piuttosto che anche i piccoli lavori domestici che gli anziani non riescono a fare. Abbiamo fatto in questo anno mezzo un grande lavoro perché siamo riusciti a relazionare oltre un centinaio di anziani che abbiamo conosciuto e anche tra di loro si è creata una relazione e questo è l'obiettivo nostro di poter far confrontare gli anziani e farli uscire dalla loro solitudine. Siamo adesso in procinto di fare la nuova stagione, abbiamo dei volontari che hanno fatto dei corsi perché crediamo che la formazione di un volontario in relazione con l'anziano sia fondamentale. Cosa dire di più di questo progetto? Siamo molto felici perché comunque è un progetto che lavora molto bene, infatti anche in questi giorni siamo stati protagonisti con la trasmissione su Rai2, l'Italia che fa ed è stato anche un grande riconoscimento, vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro per la città di Rovigo. Chiediamo che Rovigo sia una città che abbia bisogno di questa visibilità perché ci sono tante realtà di solidarietà che sono importanti. Che cosa significa trovarsi in una condizione di fragilità? Trovarsi in una condizione di fragilità significa che ad una certa età, quando la tua forza lavoro è finita perché comunque hai la possibilità di avere il pensionamento e quindi finalmente di riposarti ti ritrovi che magari hai figli all'estero e non hai più una comunità pronta a socializzare ti trovi chiuso in casa e non ti rendi conto che i giorni passano e tu non tiri fuori le tue risorse per poter offrire alle tue giornate e agli altri qualcosa di positivo. Quindi fragilità e solitudine sono questo per lo più. Infatti le persone a cui il nostro progetto è rivolto sono persone non ospedalizzate, che vivono a casa loro e sono anche in buone condizioni di salute per lo più e soprattutto anche economicamente sono tranquille, non hanno delle grosse problematiche. Quindi la fragilità è proprio una cosa emotiva e psicologica. Spero di aver risposto alla tua domanda. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a te.